Eccomi qua, corro, allora spero tu possa gradire a quest'ora della mattina, metà mattina, un caffè, tu lo bevi? Lo bevo, amaro. Amaro, anch'io comunque. Perché il caffè amaro ti trasmette il vero sapore del caffè, con lo zucchero si perde l'aroma e il gusto del caffè, quindi lo bevo rigorosamente amaro e lo bevo solo di mattina perché altrimenti poi non dormo più. Sono d'accordo, bisogna limitarlo. Senti Gabriella, volevo iniziare con te dall'inizio proprio, cioè come è iniziata questa avventura nel mondo dello spettacolo? E forse tu non ti immaginavi perché noi dobbiamo ricordare che tu hai due lauree, una in lingue e una in storia dell'arte, quindi forse non volevi neanche... No guarda, la laurea in lingue è quella che poi per caso mi ha fatto partecipare ad un provino con Enzo Tortora. Nellì si trovava a lavorare a Milano e la trasmissione di Enzo Tortora a Portobello si svolgeva a Milano. Lei un giorno mi chiama e dice guarda Gabriella, io mi ero appena laureata in lingue e lei mi dice guarda Gabriella che Enzo Tortora sta cercando un'inviata speciale.